Da lunedì le marche passano in zona arancione, carta famiglia, agevolazioni per 270 famiglie pesaresi, scontro fra due auto, traffico congestionato alla torraccia, partiti i lavori per l'interquartieri di Moraglia, moto Lucchetti torna in pista con la tuta vegana. Buona serata amici e amici di Rossini TV, ben ritrovati. Buona serata amici al nostro telegiornale Rossini News, telegiornale di venerdì 4 febbraio che apriamo con l'ufficialità dell'ingresso della Regione Marche, del passaggio della Regione Marche da zona gialla a zona arancione a partire da lunedì 7 febbraio. A comunicarlo è stato oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza all'amministrazione regionale in base ai dati sulla pressione ospedaliera dell'ultima settimana che attualmente registra il 21% di posti letti occupati in terapia intensiva e il 33% in area medica. Cosa cambia in zona arancione? Praticamente nulla per chi è vaccinato e dispone del green pass rafforzato. Le persone che invece non possiedono alcun tipo di certificazione verde possono uscire dal proprio comune o raggiungere altre regioni solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non disponibili nel proprio comune. Necessario per spostarsi però almeno il green pass base. Nei bar e nei ristoranti si può accedere solo con super green pass, allo stesso modo si potrà andare in palestra o in piscina solo se si è vaccinati o guariti dal Covid-19. Ed è un cambiamento di colore accolto con amarezza dalle istituzioni regionali a cominciare dal Vicepresidente Mirko Carloni che ha commentato così il provvedimento sul suo profilo Facebook. Il passaggio in zona arancione mi preoccupa molto, non tanto perché cambia qualcosa di sostanziale nella gestione della pandemia, quanto perché è uno schiaffo all'impegno che i marchigiani hanno messo, alla serietà con cui hanno fatto i vaccini, alla serietà con cui si sono autogestiti cercando di raggiungere il massimo livello di sicurezza. E inoltre, lo dico sinceramente, anche come rappresentante della conferenza delle regioni per le attività produttive, sono molto preoccupato per la situazione economica perché il passaggio in arancione di per sé, se è vero che non cambia nulla, però genera una sensazione di paura e questo, come sempre avviene, impatta nei consumi, impatta nelle attività economiche che sono già disperate. E questa cosa onestamente io la considero sbagliata, profondamente sbagliata, e lo voglio dire perché ritengo che, come hanno giustamente proposto tutti i governatori al governo, in modo particolare al ministro Speranza, il momento della normalizzazione non si concilia più con questa fase delle fasce di colore. E il paradosso del passaggio in zona arancione è che per il nono giorno consecutivo si abbassa l'incidenza di contagio nelle Marche, ora arrivata a 2.071 casi di Covid ogni 100.000 abitanti. Sono invece 4.030 i casi in regione di oggi, di cui 773 nella provincia di Pesaro e Urbino. I ricoverati si attestano a quota 392, di cui 54 in terapia intensiva. Sette invece i decessi rilevati oggi, di età compresa fra 56 e 92 anni. In un periodo estremamente complicato per la situazione sanitaria, ma anche per i rincari delle bollette, ci saranno 270 famiglie pesaresi che possono accedere a sconti o agevolazioni grazie alla Carta Famiglia 2022. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Un progetto molto importante che è Reddito, che ha dieci anni, che vogliamo rilanciare perché, come dicevi, oggi c'è una forte emergenza sociale che nasce dall'emergenza sanitaria del Covid. È un progetto che si sostiene grazie anche all'aiuto dei privati e non, perché collaborano le società sportive, la Federpharma, le farmacie comunali, la Copp. Consiste in questo. Si danno alle famiglie, alcune famiglie particolari, che sono quelle che hanno più di tre figli o che sono legate ai servizi sociali o che hanno bambini con disabilità, si danno sconti e agevolazioni per superare questo momento, che è un momento per molte famiglie difficile. Quindi siamo qui a rilanciare questo progetto a cui il Comune Team monta. Come si può accedere? Quali sono i requisiti da presentare? Ci sono dei requisiti per le famiglie, sono quelli che devono avere, ad esempio, tre figli elise sotto i 25 mila euro. Alcune famiglie devono essere già in carico ai servizi sociali, devono avere un figlio con disabilità. È tutto spiegato nel setto del Comune, rimando lì per le informazioni. E invece, sempre sul setto del Comune, per tutte quelle realtà economiche che vogliono partecipare al progetto e sostenere le famiglie, hanno la possibilità, possono anche scrivere direttamente a me e saremo lieti di rispondere più presto. Un gesto importante, un gesto concreto e importante che fanno gli operatori commerciali, che danno tutta una serie di agevolazioni e sconti a determinate tipologie di famiglie. Quindi un gesto proprio di solidarietà. L'anno scorso sono state 270 le famiglie a cui è stata offerta la carta famiglia. Grazie a questa carta è possibile, ad esempio, usufruire di sconti anche considerevoli sugli abbonamenti alle società sportive. Ad esempio, c'è qualcuno che fa il 30, il 50%. È possibile andare da un dentista a delle tariffe particolarmente convenienti, come pure andare da uno psicologo, seguire dei trattamenti logopedici. Quindi sono tante le iniziative e le opportunità. Senza citare poi le farmacie, sono tantissime. Abbiamo un insieme di operatori convenzionati, sono 81. E speriamo che nel tempo altri vogliano aggiungersi a questa rete di operatori. E dopo l'incidente stradale che vi abbiamo raccontato ieri, anche oggi si è verificato un altro sinistro in zona torraccia. Questa volta però con feriti più lievi. Attorno alle 12, in prossimità della rotatoria, non lontana da Rossini Center e precisamente di fronte agli esercizi commerciali di Unieuro e Prenatal. Qui, per cause da chiarire, una Ford Fiesta si è intraversata colpendo una classe A che sopraggiungeva nell'opposta corsia. A rimanere ferita è stata una persona anziana che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Però, oltre al 118, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per disincastrare la portiera bloccata di alcuni passeggeri e la polizia locale per regolarizzare il traffico che si è creato allora di punta in questa congestionata rotatoria del quartiere Torraccia. E percorrendo la strada pesarese, praticamente dalla parte opposta della città, si apprezza come sia partito il cantiere per la realizzazione del nuovo tratto di interquartieri che si collegherà all'ospedale di Muraglia. Un primo stralcio di lavori in un'opera più ampia destinata a modificare la viabilità della città di Pesaro. Questa settimana è ufficialmente partito il cantiere per la realizzazione dell'interquartieri di Muraglia. 5,9 milioni di euro per un maxi intervento che ha come committente Società Autostrade, che è supervisionato dal Ministero delle Infrastrutture e che rappresenta un primo passo nel più ampio pacchetto di oltre 70 milioni di euro di opere accessorie della stessa Società Autostrade. Lavori che sono partiti in via Lombroso di fronte all'ospedale futuro polo cittadino della città e della provincia e nel primo stralcio di opere arriverà fino agli orti di Muraglia fungendo da bretella con il tratto di interquartieri già esistente in un percorso a due corsie per un chilometro e mezzo che finirà per unire complessivamente il casello autostradale all'area più meridionale della città. Ripulite le aree verdi incolte precedute dal delicato intervento di traslazione dell'acquedotto da parte di Marche Multiservizi, i lavori sono stati avviati e stando alla consegna dell'opera affissa sulla recinzione dovrebbero essere ultimati nella primavera del 2023. Prima di quella data però dovrebbero sbloccarsi altri interventi in agenda dalla bretella di Santa Veneranda al raddoppio di corsie del primo tratto di interquartieri. Ed ora il momento dello spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato che vedete il 370-366-7210. Oggi le nostre telecamere si sono accese nel centro storico di Pesaro nel parco adiacente alla biblioteca San Giovanni che come ci spiega questo nostro telespettatore intervistato da Edoardo Razzi viene troppo spesso dimenticato dalle operazioni di manutenzione. L'autunno è finito da qualche mese ma questo non sembrerebbe dalla situazione che è presente nel parco a fianco della biblioteca San Giovanni. Migliaia di foglie cadute giacciono al suolo da troppo tempo e per questo ci è arrivata una segnalazione di un cittadino residente in uno degli appartamenti accanto alla biblioteca di via Passeri che si è lamentato dello stato di incuria che ogni giorno vede sotto ai suoi occhi. Che vengono a pulire perché qui è un disastro le foglie anche quando tira il vento quando tira il vento vanno tutte nelle vie e il mitrofe qui è un macello un casino anche la gente si lamenta di fuori dopo la gente che arriva tutte le foglie lì. Il problema è che qui non aiuta nessuno io da per me non faccio più niente da oggi in poi perché è inutile che pulisco qui il pavimento della biblioteca che lo pulisco tre quattro volte al mese e poi non portano via le foglie e se portano via le foglie va bene se non portano via il vento le riporta tutte qui dopo mezz'ora è un lavoro fatto per senza niente capito? Durante il giorno che passi qui il vento alza le foglie guardi anche lì per terra le cose piccioni tutto un macello qui anche le ho detto no? Ci sono i topi sono 30 centimetri lunghi la notte è capitato un paio di volte che li ho trovati davanti al portone e non so se mettono le esche qui dovrebbero venire io non li ho mai visti una volta non li ho più visti mettere le esche. Quindi lei cosa chiede al comune o all'aspest? Che li facciano venire a mettere le esche a controllare continuamente perché è inutile che teniamo quelle trappole lì che non c'è niente dentro. Invece per le foglie? Per le foglie le devono venire a portare via almeno almeno una volta ogni due mesi adesso sono quattro cinque mesi da quanto ha cominciato a cadere le foglie vede gli alberi che ci sono qui qui in macello ogni mese due mesi al massimo devono venire a tirare le vie le sono ultima volta sola da settembre. Lei ha già chiamato contattato qualcuno per farle rimuovere? Ho cercato di contattarli e passano da un numero all'altro che io sono stanco di telefonare. E una problematica di questo parco anche non solo durante il giorno per quanto riguarda le foglie ma anche per il degrado che può esserci durante la sera. Vengono a dormire due tre qui sotto allo giatto non è che dà fastidio però non è un grande coro per la città e qui invece c'è la gente che dorme e vanno a urinare fare altre robe dietro ai cespugli ha trovato anche discussioni una volta. E le hanno anche dato fastidio? No personalmente no personalmente no mi ha dato fastidio una volta una persona che era entrato senza permesso gliel'ho fatto presente ormai mi butta sotto con la macchina questo glielo giuro non è una bugia. Ha cercato di buttarmi sotto con la macchina e ha detto a te non c'hai il permesso io non trovavo il posto per la macchina. Io sono passato dietro quando sono passato dietro mi ha fatto marci indietro poi ha frenato di scatto ma se le scivola il piede dal freno mi schianta le gambe. Parchi che invece sono prossimi alla riqualificazione sono gli sgambatoi comunali di Pesaro. A dicembre infatti il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Michele Redaelli aveva posto una interpellanza riguardante l'attenzione al decadimento per queste aree dedicate ai cani. Ora secondo lo stesso Redaelli la risposta degli assessori Pozzi e Morotti è stata soddisfacente. È infatti già previsto un piano di primi interventi su recensioni e su dell'onistica in attesa di programmare un piano dettagliato in termini di illuminazione fonti d'acqua e tettoie. Il comune di Fano ha installato quattro telecamere per sorvegliare il sottopasso del Lido evitando che si ripetano atti vandalici verificatisi negli ultimi mesi. Ad annunciarlo è l'assessora Barbara Brunori per un intervento dal costo di 4.500 euro. La Col di Retti Pesaro Urbino ha donato al centro aiuto alla vita di via Gian Santi a Pesaro 18 pacchi alimentari per 600 chili di prodotti ad alta qualità tra salumi, olio, pasta, formaggio, omogenizzati passata di pomodoro, legumi e farina. Un gesto di generosità dei consorzi agrari verso l'opera di questo prezioso ente assistenziale. E ora ci occupiamo di alcuni importanti appuntamenti musicali previsti a Pesaro. E' stata infatti annunciata oggi l'esibizione in città dei Dinosaur Junior, una band di culto della scena indie rock americana degli anni 80 e 90. Dinosaur Junior che si esibiranno nell'anfiteatro del Parco Miralfiore il 7 giugno in una delle quattro date al momento fissate in Italia. E invece è ben più imminente l'esibizione di Giorgio Poi che giovedì 10 febbraio alle 21 salirà sul palco del teatro sperimentale di Pesaro nell'ambito della rassegna playlist organizzata da Amat e sostenuta da PBR Banca. La rivista Rolling Stone ha etichettato Giorgio Poi fra i cantatori italiani più interessanti del momento. Poi che è stato già apprezzato dagli spettatori di Netflix per aver realizzato la colonna sonora della serie Summertime ha scelto Pesaro come data zero del tour per il suo nuovo album dal titolo Gommapiuma. E dalla musica passiamo al teatro la rassegna di Amat teatri d'autore la stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro Urbino che riprende i suoi appuntamenti mercoledì 9 febbraio alle 21 e 15 al teatro Bramante di Urbagna con il malato immaginario della compagnia Stivalaccio teatro che rileggerà a suo modo un grande classico di Molière. Ancora eventi questa volta quelli di Fano il cui comune ha oggi presentato un primo calendario per il 2022. Numerosi gli appuntamenti tra aprile e dicembre e tante le riconferme. Da Passaggi Festival al Carnevale in edizione estiva per poi passare a Fano Jazz by the Sea e Brodetto Fest e tanti altri. Vediamo tutto nel servizio di Simone Celli. Se c'è una parola abusata negli ultimi anni è senz'altro resilienza ma è certamente il termine migliore per definire l'atteggiamento di chi ha chiamato a programmare un intero anno di eventi all'ombra del covid. Lo sa bene il comune di Fano che questa mattina ha presentato un'anteprima dei tanti appuntamenti in programma per il 2022. Vogliamo guardare avanti rispetto al periodo difficile che stiamo vivendo e per questo che fin da oggi presentiamo un'anteprima eventi, quelli che sono gli eventi già posizionati nella programmazione estiva. In realtà si parte aprile e appunto si finisce a dicembre dove rimangono, sono confermati grandi eventi. Quindi partiamo con Passaggi che sarà nel periodo di giugno, continueremo con il Jazz che sarà a luglio. Il Carnevale è stato posizionato nel periodo estivo proprio per raccontare il Carnevale d'estate visto che nel periodo proprio di febbraio non può essere realizzato. Racconteremo il brodetto, racconteremo cinema e musica facendo rimanere i principali eventi di questa stagione, racconteremo filmografia e quindi con Fano Film Festival, racconteremo la polifonia, raccontiamo quelli che sono i luoghi più importanti della nostra città come il teatro, come la Rocca, come altri luoghi. Un ricco cartellone dunque nonostante tutto che riconferma alcuni capisaldi tra gli eventi fanesi, tra cui Passaggi Festival dal 20 al 26 giugno, la Fano dei Cesari dal 15 al 17 luglio e Brodetto Fest dal 9 all'11 settembre. Il tutto nel rispetto delle disposizioni anti-covid e con l'obiettivo di incentivare il lavoro delle tante attività cittadine. Quindi Fano è pronta soprattutto le associazioni culturali della città sono pronte, l'amministrazione continua a credere in questi investimenti perché sappiamo che queste attività, questa creatività aiuta poi anche il mondo economico a partire. Ecco noi da oggi raccontiamo al mondo del turismo, diamo già in mano agli albergatori che faranno promozione in questa primavera, diamo già il tour per etero, comunque porteremo nelle fiere che porterà avanti la Regione Marche già un programma di eventi, di attività che la città è pronta ad affrontare e che ovviamente varrà arricchito strada facendo fino al periodo estivo. Il tutto ovviamente sempre nella massima sicurezza con le condizioni che conosciamo, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, è il motivo per cui ad esempio il carnevale non è stato realizzato a febbraio ma sarà realizzato in modo sicuro nel periodo estivo è il motivo per cui la Fano dei Cesari purtroppo non si potrà tenere come prima ma sarà una situazione intermedia tra quello che era al periodo diciamo nel 2018 quando c'era la corsa delle bighe e quindi quello che sarà in futuro che tornerà ad esserlo ma oggi è un momento intermedio e quindi però la rappresentazione della nostra cultura sarà sempre presente. Un calendario in divenire dunque che deve sin da ora fare i conti con il quadro pandemico. Basti pensare al carnevale che intende onorare l'imminente settimana grassa ma rimanda le sfilate al prossimo agosto. Come sapete tutti i carnevali d'Italia, escluso Viareggio ma insomma tutti gli altri abbiamo tutti dovuto rinviare causa pandemia il carnevale e il nostro carnevale sarà diviso in tre momenti. Durante la settimana grassa che va dal 24 febbraio al primo marzo onoreremo questa settimana con eventi di carattere più culturale diciamo perché sono gli unici che si possono fare e evitano sembramenti. Dopodiché faremo il carnevale dei bambini il 4 e 5 giugno e il carnevale di ferragosto il weekend di ferragosto quindi diciamo che in questi due anni siamo la cosa positiva è che possiamo fare degli esperimenti vediamo come vanno e poi quando si tornerà alla normalità valuteremo il faremo un preso conto di questi esperimenti. Ed è tornato a trovarci un grande amico di Rossini TV Giacomo Lucchetti il pilota animalista che dopo le sue missioni nei canili e gattili d'Italia con cuore in corsa e il suo progetto qua la zampa realizzato proprio con la nostra emittente ora è pronto anche a tornare in pista con una tuta rigorosamente vegana. Ci spiega meglio di cosa si tratta in questa intervista. Siamo con Giacomo Lucchetti e la sua Juliet Jack che da anni è il primo pilota animalista con la sua cuore in corsa ora aggiunge un tassello aggiuntivo che enfatizza questa sensibilità la prima tuta vegana la prima tuta assolutamente che non contiene prodotti che vengono dal maltrattamento di animali una tuta pronta per essere portata in pista. Sì diciamo un'innovazione incredibile targata virus power la prima tuta vegan al mondo e per me è stata una soluzione determinante perché per rientrare nelle corse questa soluzione era necessaria non avrei mai 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 più potuto riutilizzare indossare è brutto dirlo però un accessorio fatto veramente con la sofferenza e la crudeltà insomma dell'umanità verso gli animali quindi un qualcosa che oggi mi permette di portare avanti il nostro progetto in maniera totale quindi con una diciamo con un'etica molto forte e come dico insomma abbiamo trovato nella virus power nella primatex che poi è l'azienda che produce proprio questo questo prodotto diciamo il massimo poi della sicurezza di tutto quello che sono le caratteristiche tecniche necessarie per andare in pista. Ecco tu sei tornato in pista dopo diversi anni di inattività in cui però non ti sei mai fermato con le tue missioni animaliste ora il ritorno in pista con questa tuta quando è previsto? Allora subito diciamo nei primi test precampionato purtroppo la tuta è arrivata un giorno dopo la gara di misano dello scorso anno quindi non ho potuto utilizzarla direttamente in pista però sicuramente in aprile saremo già pronti per scaldare i motori e andare insomma al debutto con con questo prodotto eccezionale. Anni e anni di corsa e anni anche di missioni animaliste a che quota è arrivata di queste spedizioni davvero importantissime la missione di cuore in corsa? Siamo a quota 43 43 missioni di soccorso tra zone terremotate e sud Italia è un programma in cui io credo tantissimo un progetto in cui sto dando veramente tutto e abbiamo costituito nel 2019 cuore in corsa il primo motoclub animalista d'Italia e proprio in questo 2022 ci sarà un'evoluzione quindi da primo motoclub animalista diventeremo il primo racing team animalista io dico d'Italia ma forse nel mondo perché siamo gli unici pazzi a fare questa cosa e l'obiettivo è quello di mettere le moto al servizio degli animali in aiuto degli animali bisognosi. E si conclude qui l'informazione di Rossini News ma non si conclude l'informazione su Rossini TV perché è venerdì e come sempre alle 20 c'è il Valefoglia e il Pian del Bruscolo Magazine telegiornale di questo territorio condotto da Edoardo Orazzi che va in onda con prima edizione alle 20 e con prima replica alle 23 e 15. La nostra prima serata invece dedicata allo sport riviviamo le immagini della prima edizione della Pesaro Marathon tenutasi lo scorso weekend questa sera alle 21 e 20 e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina come ogni sabato con Buongiorno Rossini in diretta alle 7 e 20 la rassegna stampa dei quotidiani locali per l'occasione condotta dal nostro Marco Cadedu. Altro appuntamento diventato fisso è quello con le sante messe della domenica che trasmettiamo in diretta questa volta Rossini TV accende le sue telecamere dalla funzione del Duomo di Pesaro appuntamento domenica alle 11 e 30. E domenica anche la serata di palcoscenico Marche questa bella carrellata di documentari realizzati dalla fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che ci porta alla scoperta di gioielli nascosti del nostro territorio abbinati a suggestive performance artistiche puntata di questa domenica alle ore 21 che è stata realizzata alla casa Museo Quadreria Cesarini di Fossombrone. E dunque tanti appuntamenti sia questa sera che in questo weekend che vi invito a seguire su Rossini TV come vi invito a seguire ora le previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.